La giunta regionale della Campania ha stanziato 4 milioni di euro per la messa in sicurezza della parete del costone sovrastante il tratto della SS 163 franato nel territorio del comune di Amalfi. I fondi stanziati integrano le risorse già messe in cantiere dall'ANAS per la ricostruzione della strada e soprattutto sono volti a garantire il completamento del quadro di mitigazione del rischio sia a monte che a valle del tratto compromesso e a scongiurare il ripetersi in futuro di smottamenti che hanno interrotto la principale arteria di collegamento come quello dello scorso febbraio. I lavori in corso procedono speditamente e al termine di tutti gli interventi necessari si ripristineranno i collegamenti per tanti cittadini tagliati fuori dalla mobilità ordinaria in costiera sorrentina e amalfitana.